E come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi entriamo sotto il segno della riete. Le particolarità di questo segno sono energico, focoso, esuberante, impulsivo, non manca però la prepotenza, ma sono molto molto sinceri. E sotto questo segno non poteva nascere un grande conduttore televisivo, cantante e direttore d'orchestra. A Formicine nel 1962 nasceva Paolo Belli. Nel 1983 è fondatore del gruppo musicale Ladri di Biciclette, in omaggio all'omonimo film di Vittorio De Sica, rimanendone il leader fino al 1991 quando sceglie la carriera da solista. Come membro del gruppo Ladri di Biciclette nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo, ritornandovi nel 1991. Nel 1989 vince il disco verde nel Festival Bar con il brano Dottor Jazz e Mr. Funk. E vendendo, pensate, 100.000 copie dell'album si aggiudica il disco d'oro. Nell'edizione del Festival Bar del 1990 vince con il brano Sotto questo sole, interpretata con Francesco Baccini e aggiudicandosi il Telegatto come gruppo rivelazione dell'anno. Nell'edizione del Festival Bar con l'album si aggiudicandosi il Telegatto. Paolo Belli è dal 2000 co-conduttore di due programmi televisivi del sabato sera di Rai 1, Torno Sabato, condotto da Giorgio Panariello dal 2000 al 2003. E dal 2005 Ballando con le stelle, condotto da Milli Carlucci, nei quali cura anche le sigle. Nel 2009 partecipa di nuovo al Festival di Sanremo, in trio con il brano L'Opportunità. Si avvicina anche al mondo del cinema. Infatti nel 2007 diventa protagonista con la bellissima Sabrina Ferilli del film per la televisione Due imbroglioni e mezzo. Adesso voglio raccontare un attimino un piccolo episodio che mi è accaduto con il grande Paolo Belli. Ero come pianista nel tappeto volante del grande Luciano Rispoli e lui venne come ospite. E come sempre io duettavo con questi grandi artisti. Lui quando mi sentì suonare disse al grande Luciano Rispoli Zio Luciano non mi posso sedere vicino a questo uomo che suona il jazz così bene. E Rispoli gli disse ma lei è una donna. Sì ma lei suona come un uomo. Paolo Belli non ha mai nascosto il proprio grande amore per il teatro. Infatti lo troviamo prima con Dillo con un bacio, poi con Pur di fare musica e Pur di far commedia. Spettacolo tuttora in scena. Questo grande artista lo possiamo definire polietrico. Però adesso andiamo ad alcune curiosità. È un tifoso della Juventus e nel 2007 ha cantato e riarrangiato Juve, storia di un grande amore. Inno usato dalla stessa squadra di calcio a partire da quell'anno fino ad oggi. Un'altra curiosità molto romantica. Pensate lui è sposato con sua moglie Diana dal 1980. Non hanno avuto figli e hanno adottato un bambino bielorusso di nome Vladik. Oggi il ragazzo ha deciso di tornare nel suo paese in attivo per questioni amorose. Le dichiarazioni di Belli citano. Ha deciso di tornare in Bielorussia perché ha seguito il suo cuore. Si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice io sono anch'io felice. Una delle sue più grandi passioni è il ciclismo. Infatti ha interpretato diversi brani per il Giro d'Italia. Nel 2016 fa parte come giuria italiana dell'Eurovision Song Contest e dal 2017 al 2019 è stato presidente della Nazionale Calcistica Italiana. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande, grande abbraccio da me, Silvia Pani. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!